buongiorno a tutti buona giornata e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione oggi andiamo subito immediatamente a vedere che santo festeggiamo venerdì 16 giugno si festeggia santi quirico e giuditta martiri giuditta e quirico sono madre e figlio subiscono le persecuzioni anticristiane di diocleziano nel 305 arrestati a tarso che è l'attuale turchia lei non vuole rinunciare alla propria religione ed è costretta a vedere uccidere il figlio appena bambino che proclamatosi a sua volta cristiano risulta essere tra i martiri più giovani e vediamo le previsioni del tempo situazione del tempo in miglioramento con sole e poche nubi di passaggio venti deboli a tratti moderati da nord temperature il lieve aumento il weekend si propone molto molto bello abbiamo sabato domenica lunedì martedì mercoledì di sole pieno con minime di 18 gradi e massime sia domenica che lunedì di 30 gradi oggi il sole è sorto alle 5.24 e tramonta alle 20.50 e cominciamo a vedere la nostra rassegna stampa e facciamo subito partiamo subito da il resto del carlino allora vediamo subito che il resto del carlino in prima pagina abbiamo denunciato dal capo della mobile il ristoratore carriera condannato a pagare 200 euro di multa era accusato di diffamazione assolto invece dall'altra imputazione titolo di testa baby gang danni furti e minacce due diverse bande imperversavano in centro a fano individuati capi grazie al racconto di un barista e qua di pagina di sinistra vediamo il fenomeno è successo ieri mattina tromba d'aria mattutina a largo di fano una possente tromba d'aria è comparsa ieri mattina alle 5.40 a largo del mare di fano per poi sciogliersi dopo quasi 40 minuti un testimone d'eccezione è stato il professor peris persi fanese che ogni mattina all'alba va a camminare sulla spiaggia ho visto questa enorme tromba d'aria creata dalle correnti scattando numerose foto perché era davvero impressionante per fortuna si è affievolita mano a mano che arrivava arriva ed è stata una fortuna in effetti poi abbiamo fatto vedere ieri al nostro tg delle immagini che ci hanno mandato i nostri ascoltatori riprese da diversi punti è spettacolare vedere comunque questa tromba d'aria in mare che fortunatamente poi piano piano si è dissolta non ha causato danni però veramente una cosa molto particolare spettacolare che tra l'altro hanno appunto confermato che succede è successo spesso non è raro che succedano fenomeni atmosferici di questo tipo ma torniamo alla nostra rassegna stampa e abbiamo la fotonotizia l'hotel charlie apre tutte le porte taglio del nastro per l'ex cruiser ristrutturato dalla famiglia filippetti completamente messo nuovo restyling per le 117 camere ma in città restano molti ancora gli alberghi da sistemare e poi abbiamo lateralmente le brevi di cronaca accoltellamento shock in paese a villanova sta meglio il giovane ferito domani inizia la rassegna della mostra del cinema aprono veltroni il film su cucchi l'ex premier pesarese forlani scrive a berlusconi commozione e cordoglio a fondo pagina notizie sportive vl menetti in pool poi buscaglia e sacota benelli via i lavori vis verso il trasloco andiamo all'approfondimento delle pagine interne e andiamo subito alle sfide del turismo di pesaro benvenuti al charlie l'ex cruiser apre le porte ma quanti hotel ancora pesaro sono da rifare ieri il taglio del nastro per l'albergo ristrutturato dalla famiglia filippetti difficile trovare personale ma ci aiuta al fatto che siamo aperti tutto l'anno un investimento di grande rilievo quello fatto da nardo filippetti e la sua famiglia perché si sfiorano i 10 milioni di euro solo per i lavori di ristrutturazione oltre a quelli spesi per l'acquisto altri 7 milioni e passiamo alla cronaca giudiziaria di pesaro ecco la notizia che avevamo trovato in prima pagina carriera condannato per diffamazione ma assolto per aver girato il video il giudice gli infligge una multa di 200 euro e circa 9 e circa 9 mila tra risarcimento dei danni e spese legali una condanna per aver diffamato il capo della mobile ma la soluzione dall'accusa di aver girato quel video in modo fraudolento quindi dal video è stato assolto 200 euro di multa è quanto è stato stabilito dal giudice per umberto carriera e soprattutto per il post che aveva pubblicato sui suoi social contro il dirigente della questura paolo badioli ai tempi delle restrizioni anti covid e le chiusure dei locali misure che carriera contestava come ha fatto quel 15 gennaio 2021 quando ha deciso di tenere aperto il suo ristorante la grande bellezza a mumbraccio e passiamo alla politica una una un cordoglio da parte di forlani per silvio commozione rimpianto quando salvò le sue tv l'ex premier 97enne ha preso della scomparsa davanti allo schermo è morto berlusconi nell'89 al meazza accanto a lui si era ritrovato per la partita milan real passiamo alle pagine di fano e scacco alle baggy b gang che terrorizzavano il centro razzia e minacce due minori a capo di bande di coetani sono stati denunciati a pizzicati gli agenti del commissariato di polizia spadroneggiavano nel centro storico dove avevano preso di mira un locale razziando merci devastando gli arredi e minacciando i titolari ma sono stati pizzicati dagli agenti della polizia locale dopo accurate indagini e sono state denunciate all'autorità giudiziaria si tratta di due minori che agivano a capo di altre tante bande di coetane una composta da italiani di origini non fanesi l'altra da stanieri per lo più nordafricani l'epilogo qualche giorno fa quando i poliziotti hanno convocato negli uffici del commissariato i responsabili ma soprattutto i loro genitori tra i reati contestati violenza privata danneggiamenti minacce e furti sempre nella pagina di fano e siamo sempre al resto del carlino titolo di testa oltre 33 milioni per la sanità fanese ecco come risorgerà il santa croce alla palazzina dell'emergenza urgente destinati 24 milioni 10 all'ospis pediatrico quindi tanta tecnologia e novità la regione rilancia la sanità fanese ribadendo l'investimento di 33,5 milioni di euro 23 milioni saranno destinati alla palazzina dell'emergenza urgenza mentre 10 milioni andranno invece all'ospis pediatrico. Aeroporto dopo 10 anni un'annata positiva e si chiude il ciclo dopo 10 anni assegnati da perdite un'annata positiva per l'aeroporto di fano nei giorni scorsi infatti l'assemblea dei soci ha approvato il bilancio 2022 della società aeroportuale fano un fortune che ha fatto registrare un utile esercizio di 7.190 euro. Stop in Valcesano ai raid nelle case coppia inseguita e bloccata ci troviamo nel territorio di San Costanzo inseguiti in macchina e bloccati dai carabinieri e vigili urmani prima che potessero commettere qualche raid in appartamenti della zona una perfetta azione sinergica dei carabinieri di Mondolfo e San Costanzo insieme alla polizia locale della media Valcesano ad essere fermati un uomo di 40 anni e una donna di 35 marito e moglie pregiudicati per reati contro il patrimonio in trasferta dall'Abruzzo dove risiedono che si aggiravano con fare sospetto al bordo della loro peggio di campagna a Solfanuccio e in una di queste si sono anche fermati per suonare il campanello chiedendo poi vaghe informazioni alla prodotta di casa affacciatasi alla porta. Deferimento per porta abusivo di cacciavite lungo 35 centimetri importante anche il nuovo sistema di telecamere bisogna sempre veramente stare attenti a queste persone che vengono a proporti qualcosa da vendere piuttosto che altre cose soprattutto per gli anziani ma adesso andremo a vedere perché c'è anche una notizia dedicata a questo. Intanto vediamo in fondopagina sta meglio il giovane accoltellato e a colli al metauro trasferito dal reparto di terapia intensiva a chirurgia sui motivi degli episodi indavano i carabinieri abbiamo parlato ieri in rassegna stampa un giovane che è stato accoltellato e purtroppo brutte notizie comunque belle perché si sono risolte per i cuccioli ammassati in gabbia e bagagli attesa la sentenza erano stati ritrovati dalla polizia in autostrada a processo era finito un conducente dell'autocarro erano ammassati in una gabbietta e chiusi anche nei bagagli senza microchip passaporto sanitario vaccinazioni antirabiche soprattutto sofferenti per le condizioni in cui questi poveri cuccioli erano stati costretti a viaggiare quei due cuccioli di cane tra bulldog pastori dell'asia centrale carlini volpini erano stati ritrovati e salvati durante un controllo dagli agenti della stradale di fano a maggio 2021 lungo l'autostrada si è costituita parte civile un'associazione animalista che assistita dall'avvocato simone candelora hanno chiesto 20 mila euro di danni per e di risarcimento siamo ad urbino urbino in prima pagina cementa il sodalizio con emilio isgro doppio riconoscimento all'artista il titolo accademico d'onore ed il sigillo delle arti cerimonia alla presenza di calcagnini e cesari con questo tributo emilio isgro artista internazionale poeta e scrittore tra i preferiti del capo dello stato mattarella salutato il pubblico le autorità che ieri mattina gremivano l'aulamagna dell'accademia di belle arti di urbino ringraziando per essere stato insignito del titolo di accademico di onore per aver introdotto con la cancellatura è un vero e proprio linguaggio nel solco della grande storia dell'arte italiana come affermato nella motivazione ed andiamo ancora restiamo ancora d'urbino e provincia la polemica sui muralis è fatta davvero sul nulla la polemica sui murali così dichiara il vice sindaco Michele Chiara Billi sulla polemica scoppiata sui social è una polemica nulla infatti lui dice appunto che non solo riguardo all'immagine celebrativa del giro attaccata sul fianco di uno degli immobili di proprietà del comune alla curva di Wilson c'è un'intervista e lui risponde esattamente il fatto che la pioggia stia cominciando a deteriorarsi non dovrebbe meravigliare nessuno era previsto che potesse succedere l'immagine provvisoria cederà il posto a un murale definitivo risponde certamente l'incarico sarà affidato all'artista forse embronese Andrea Larocca probabilmente si tratterà del trasferimento di uno degli schizzi sul giro di Anselmo Bucci ma non è escluso che si tratti di un'opera originale sempre ovviamente in tema ciclistico lasciamo il resto del Carlino e vediamo invece cosa ci propone oggi il Corriere Adriatico titolo di testa la baia in modalità estate sosta pagamento e servizio gratuito con le navette crescono i dubbi sulla ZTL a gettone da domani entrano in vigore i nuovi provvedimenti il piccolo bus transiterà ogni 15 minuti andiamo a vedere più approfonditamente l'articolo che lo troviamo a pagina 10 primo piano eccolo qua la viabilità estiva cambia marcia da domani in vigore i nuovi provvedimenti come ho detto il piccolo bus gratuito transiterà ogni 15 minuti ed ecco qui la situazione della viabilità estiva la navetta collegamento porto baia flaminia tutti i weekend dal 17 giugno fino al 3 di settembre le corse saranno gratuite ogni 15 minuti dalle 9 alle 20 e 45 la sosta a pagamento sarà in campo di marte e viale varsavia dalle 9 alle 21 i parcheggi blu in baia tutti i festivi e prefestivi dal 17 giugno al 3 settembre e le aree AZTL per le eventuali manifestazioni invece queste sono ancora oggi da definirsi torniamo in prima pagina la fotonotizia ci rimanda al santa croce fondi regionali anche al blocco b ambiamo le brevi di cronaca pesaro il comune acquista porta capucina si farà il parcheggio a pesaro lo ritroviamo sempre in breve di cronaca in prima pagina carriera ribelle condannato per diffamazione emergenza case alloggi in disuso torniamo al discorso dell'aeroporto torne nativo stanziati da enac 3 milioni dopo dieci anni stop alle perdite di fa non fortuna l'investimento deciso per la sicurezza della pista e in fondo pagina lite botte tucci è morto per emorragia cerebrale entriamo nel vivo delle pagine del resto del carlino ed andiamo a vedere eccolo qua il pesaro e provincia il comune acquista porta capucina con 670 mila euro si farà il parcheggio il progetto prevede una serie di servizi ma anche zona di ombra grazie alle piantumazioni a tre anni dall'inizio delle trattative il parcheggio di porta capucina diventerà di proprietà pubblica presentato ieri in commissione comunale lavori pubblici il disegno definitivo dopo un lungo iter fa privati e proprietari è comune affinché lente trovasse le risorse per l'esproprio pronto a passare all'esame del consiglio comunale anche anche la variazione delle opere pubbliche 2023 2025 ovvero tutti quei cantieri finanziati con il fondo pnrr amministrazione investe 670 mila euro di fondi propri sarà un parcheggio scambiatore illuminato e anche video sorvegliato torniamo anche qui come vedete si ritorna al carriera il ristoratore ribelle condannato per diffamazione pena pecuniari e risarcimenti ma lui posta assolti scagionata invece la ragazza le pagine del valcesano al via sosta pagamento malumori tra gli operatori niente esenzioni per i lavoratori del lungomare rossi dichiara è presto per valutare scatta l'ora della sosta a pagamento sul lungomare di marotta e nelle vie comprese tra la ferrovia e litorale più altre attività di recezione turistica è finita l'epoca delle vetture in sosta tutto il giorno aveva promesso l'assessore alla viabilità raffaele tinti presentando l'iniziativa in consiglio comunale viabilità i lavori un'impresa arrivare a marotta dall'umbria l'allarme del cna per lo stato di flaminia scheggia e contessa la contessa chiusa il passo della scheggia la flaminia in affanno la cna di fano è fortemente preoccupata in vista della stagione turistica per i collegamenti tra entroterra e costa per tanti anni il movimento turistico verso la costa specialmente quello umbro ha rappresentato un particolare punto per fano e marotta una voce determinante nei bilanci delle stagioni balneari senigallia anziana fa entrare in casa ecco ancora qua due finti tecnici c'è una perdita d'acqua via soldi e gioielli furti sugli anziani è un argomento molto importante se ne sente parlare costantemente di questa cosa che questi anziani sono costantemente truffati vediamo in questo caso come è andata la truffa sulla strada del ferriero a sant'angelo la vittima ha chiesto aiuto ai carabinieri un'anziana raggirata da due finti tecnici che con la scusa di una perdita d'acqua da riparare sono entrate in casa e le hanno rubato i soldi è accaduto mercoledì pomeriggio verso le 18 in un'abitazione di strada del ferriero a sant'angelo i due hanno suonato e riferito alla donna che si trovava sola in casa che avrebbero dovuto effettuare un controllo perché all'esterno si era verificata una perdita d'acqua e dovevano capire dove si trovasse il danno da riparare le hanno anche consigliato pensate di spostare eventuali gioielli o soldi così hanno visto dove li metteva finché non avessero terminato così ha fatto prendendo il denaro che aveva messo da parte quando i due sono andati via è andato a prenderlo per rimetterlo dove lo teneva nascosto ma il denaro non c'era purtroppo più e vediamo anche una notizia di sport fanno ad un passo da rinnovo Bonacchi, Mistura e Padovani manca l'ufficialità ma i tre over dovrebbero restare in granata vicino all'accordo anche Carrà sarebbero Bonacchi, Mistura e Padovani i primi over confermati dall'alma della stagione che formalmente sta volgendo al termine culminata sul campo col sorprendente successo nella finale dei playoff del girone F si attende a riguardo l'ufficialità ma questo è trapelato dalle trattative intavolate in questi giorni dal direttore sportivo Impettore Corsale con gli elementari della Rosa Granata 2022-2023 sui quali si vorrebbe continuare a puntare anche con l'avvicendamento tra Mosconi e Scorsini queste prime operazioni tranquillizzano l'ambiente dopo le recenti voci di uno smembramento vediamo se abbiamo visto, abbiamo visto tutte le notizie e torniamo a questo punto sul resto del Carlino e vediamo invece quali sono le belle notizie per quanto riguarda la cultura e gli spettacoli nelle Marche a Pesaro torna il grande cinema in mostra a tante stelle da Tornatore a Ferretti domani torna la rassegna fra le prime proiezioni il film su Cucchi e l'ultimo lavoro di Veltroni con Marco Re tutto pronto per la 59esima edizione della mostra internazionale del nuovo cinema di Pesaro che si torrà da domani al 24 giugno e che avrà tra i protagonisti i premi Oscar Giuseppe Tornatore, lo scenografo Dante Ferretti e Carlo Verdoni per i 40 anni di Borotalco in attesa dell'apertura ufficiale con Flashdance, il film cult e simbolo degli anni Ottanta il festival si apre in anticipo oggi con due proiezioni speciali alle 17 alla presenza della senatrice Ilaria Cucchi sulla mia pelle di Alessio Cremonini film che racconta l'ultima settimana di Stefano Cucchi interpretato da Alessandro Borghi il film film di Walter Veltroni con Rneri Marco Re Veltroni sarà presente per introdurre la serata e invece a Fano la Generazione Futuro torna il festival pensato per i giovani a Palazzo Bracci nuovi incontri promossi dalla Fondazione Cassa di Risparmio ecco quali sono gli ospiti tutto è pronto per la seconda edizione di Generazione Futuro Festival l'evento voluto dalla Fondazione Carifano per aprirsi ai giovani e parlare della loro lingua quest'anno l'iniziativa che si svolge nella corte del Nespolo di Palazzo Bracci Pagani sarà dedicata ai Digital Store Styling due temi molto cari ai ragazzi si comincia proprio oggi venerdì 16 giugno alle 21.15 con Marco Maisano con un talk dal titolo La voce dei senza voce investigare al tempo del digital domani sempre alle 21.15 sarà la volta di Maurizio Merluzzo doppiatore e youtuber italiano con questa è l'ultima notizia abbiamo visto anche oggi la nostra rassegna stampa io vi saluto, vi auguro una buona giornata vi ricordo che l'informazione torna stasera alle 20.30 e domani ci sarà per fare la rassegna stampa Massimo Foghetti buona giornata e domani ci sarà per fare la rassegna stampa